Buonasera, buonasera a tutti, buonasera agli spettatori di consulenza, vorrei questa sera in questa sessione in particolare portarvi a fare un viaggio, un viaggio nella subscription economy, un nuovo modello di business aziendale che in realtà si è affermato già da qualche anno, in particolare negli ultimi dieci anni abbiamo visto pullulare, rinforzarsi e diffondersi questo tipo di modello attraverso i cambiamenti, dei trend di cambiamento sostanziali che si sono verificati da un lato dal punto di vista aziendale, le aziende sempre di più sono oggi focalizzate non tanto a lanciare un prodotto, quindi non tanto a lanciare un nuovo prodotto una volta per tutte, da vendere una volta per tutte, quanto piuttosto a far sottoscrivere una serie di servizi in modo continuativo e monetizzarli, questo per le aziende ovviamente ha un beneficio enorme, quello di una certa visibilità per quanto riguarda i ricavi futuri, non solo, anche attraverso la loro necessità di innovare e di fidelizzare avranno il cliente sempre di più al centro della loro attività di fidelizzazione. Quello che è importante qui anche notare è che i modelli di business che sono focalizzati sulla solution economy saranno sempre meno focalizzati su quello che è una obsolescenza programmata, ovvero danno anche un aiuto a quello che è una lotta verso quello che in passato si chiamava l'usa e getta, quindi anche nei confronti della sostenibilità abbiamo un aiuto dato da questo nuovo modello di business. Dall'altro lato un trend di cambiamento ugualmente che ha percorso lungo tutto questo decennio e ha coinvolto anche i consumatori. Il consumo oggi non è più quello di una volta, non è più l'usa e getta, si sceglie di rinunciare a quello che è l'acquisizione della proprietà di un prodotto per andare in realtà a fruire e a voler fruire in modo più libero, flessibile di quello che è l'uso, ovvero flessibilità nell'esperienza che dà la possibilità al consumatore di essere anche più libero per quanto riguarda quando, come e in che misura utilizzare il proprio servizio. Anche questo ovviamente è un altro trend che in qualche modo assicura un certo favore alla sostenibilità. Ovviamente questo tipo di trend si è conclamato nel corso di questo decennio ma ha avuto degli acceleratori, degli acceleratori legati al contesto, la tecnologia che ovviamente è diventata sempre più pervasiva, ugualmente la demografia quindi l'accesso al consumo delle nuove generazioni economiche, ma anche questi trend che sono legati appunto alla sostenibilità, una maggiore attenzione alla sostenibilità. Oggi mi accompagneranno in questo viaggio della sascrizione economy due ospiti di eccellenza. In collegamento abbiamo Luca Galgani, direttore vendite di Zuora Italia. Zuora fornisce infrastrutture, ugualmente una piattaforma che supporta il passaggio delle aziende a questo nuovo modello di business. Buonasera Luca. Buonasera Barbara. E in collegamento da Parigi Sam Richon-Brown che è Client Portfolio Manager di Tematics. Tematics è da sempre esperto e specializzato nella gestione tematica e nella gestione appunto di investimenti tematici. Prima però di iniziare il percorso questa sera pregherei la regia di lanciare un video, un video che ci aiuta un po' a creare il contesto attorno a questo concetto che non è più solo un concetto in realtà, è una vera e propria realtà. Nel 2019 Netflix aveva 158 milioni di abbonati e Spotify ne aveva 118 milioni. La subscription economy è in piena espansione e conquista nuovi mercati giorno dopo giorno. Questa nuova situazione rispecchia nuove abitudini di consumo che non sono più dettate dal bisogno di possedere. La digitalizzazione fa sì che un numero crescente di beni immateriali sia influenzato dalla subscription economy. Sottoscriviamo abbonamenti per il telefono, la musica, la palestra, il cinema, per incontri online o per accedere a piattaforme di formazione. Questa migrazione sta attraversando anche il mondo delle imprese. Sapete che il vostro datore di lavoro oggi paga un abbonamento per permettervi di accedere alle email o a Excel? E nel mondo del risparmio gestito, i gestori di portafoglio pagano un abbonamento per accedere ai servizi di informazione finanziaria. Oltre a essere una modalità di consumo in forte espansione, gli abbonamenti sono anche un settore di investimento molto promettente. Per gran parte dei servizi ai consumatori, i tassi di rinnovo degli abbonamenti si aggirano intorno al 75%, percentuale che sale al 90% per i servizi alle imprese. Per alcune aziende il tasso di rinnovo sfiora addirittura il 95%. Questa eccezionale visibilità implica che le aziende possono guardare al futuro con fiducia, stimolandole a investire e a innovare più velocemente rispetto alla concorrenza. E l'obsolescenza programmata non ha più senso di esistere se chi vende utilizza un modello basato sull'abbonamento, che si configura anche come risposta indiretta alle sfide ambientali. Siamo convinti che questo modello di business abbia davanti a sé un grande futuro, con vantaggi sia per i consumatori, sia per le imprese. Per capire in realtà quanto sia pervasivo questo modello basato sulla subscription economy, anche per noi individui e consumatori, vi invito a fare un esperimento. Guardate sul vostro smartphone, oppure consultate il vostro estratto conto, il conto della carta di credito. Vedrete effettivamente quante sono le app e le voci riconducibili alla fruizione di servizi a pagamento. Questo è chiaro che io non faccio parte della generazione digitale, purtroppo, ma anche per quanto riguarda la generazione X, quindi generazione trasversale per quanto riguarda le generazioni, anche nel mio caso ho trovato, con grande sorpresa, un numero abbastanza elevato di servizi a pagamento. Per andare un po' più nel concreto però, mi rivolgo a Luca, Luca Galgani di Zuora. Dunque iniziamo un po' a comprendere con te e con voi in particolar modo perché Zuora e il Chief Executive Officer di Zuora, Tienzuo, ha proprio coniato il termine subscription economy, quindi ha proprio coniato il termine subscription. Che cosa puoi dirci a riguardo e se puoi spiegare un pochino meglio dal punto di vista terminologico, giuridico, che cos'è questo concetto? A cosa fa riferimento questo concetto? Allora, grazie Barbara per questa domanda. Allora, con subscription, soprattutto traducendolo in italiano, si fa spesse volte l'errore di banalizzarlo in abbonamento. In realtà la subscription è un contratto di fiducia che un'azienda fa col cliente, sia in ambito B2C che in ambito B2B. Con contratto di fiducia il cliente di fatto offre delle informazioni e aggancia il metodo di pagamento all'azienda e in cambio ottiene la possibilità di ottenere i servizi e il prodotto quando gli serve, dove gli serve e per quanto tempo gli serve in una modalità frictionless, perché poi quello che il consumatore oggi chiede è appunto di avere un'esperienza di consumo facile, veloce e senza perdite di tempo. Quindi abbiamo anche esempi come Amazon Prime, Uber, Enjoy, sono tutte subscription, sono tutti contratti che noi stipuliamo con delle aziende, di cui abbiamo fiducia e di cui vogliamo offrire dei servizi, per avere appunto un servizio nelle modalità in cui noi vogliamo. La subscription è un qualcosa che è sempre esistita. Per monetizzarla al meglio bisogna avere una tecnologia che aiuti appunto ad arrivare ai tassi di fidelizzazione del 90%, quindi eliminare tutti quegli inconvenienti che abbiamo quando la carta scade, la carta non a plafon e quant'altro. Queste cose noi oggi le stiamo già utilizzando nel mondo di media ed editoria, ma si stanno affacciando sempre più aziende manifatturiere che stanno lanciando servizi a subscription, quindi è veramente pervasivo e anche in Italia dove abbiamo, lo vediamo dai nostri indici di un benchmark che abbiamo, che si chiama subscription economy index, abbiamo in media un 7 servizi, 6-7 servizi a subscription per ogni cittadini italiani in media, ovviamente cittadini che hanno più di 18 anni ovviamente, vediamo che sta abbracciando sempre più ogni aspetto della nostra vita. Abbiamo oggi le macchine le macchine a subscription, i telefonini a subscription, i televisori a subscription, addirittura le lavatrici a subscription, quindi veramente è un qualcosa che non è più il futuro, è il presente. È il presente. Destinato a cambiarci la vita direi. Sam, cambiamo con te un attimo a prospettiva e ci mettiamo dal lato dell'investitore. Voi siete un gestore che da sempre si è specializzato nell'identificazione dei trend che siano in grado di crescere sul lungo periodo e di creare valore e rendimento sul lungo periodo. Sam, voi siete stati pionieri nell'investimento in questo trend. Che cosa avete visto di attraente? Sam, what attracted you to create a specific subscription economy strategy? Sì, Barbara, chiaramente l'unicità del punto di partenza offre una forte diversificazione di vantaggi all'interno di un portafoglio azionario. Tornando al punto di Luca, anche noi pensiamo profondamente che i consumatori e le aziende favoriscono sicuramente più la possibilità di utilizzo che non di proprietà e che questo senz'altro applicherà appunto il principio a più settori, aprendo la strada per una crescita, un'adozione crescente di questo tipo di modelli basati sulla subscription. A Tematics passiamo molto tempo cercando di quantificare, qualificare un tema ed è così che definiamo i confini tematici. Beh, è chiaro che i temi devono essere chiaramente sorretti da dei driver di crescita secolare che dimostrano comunque una crescita sempre al di sopra della media, non ancora capito dal mercato. Pensate a queste forze, tutte chiaramente entrano in gioco nell'economia di subscription, l'innovazione tecnologica, il cambiamento delle preferenze dei consumatori, la sostenibilità. Il prossimo passo per noi è capire se c'è una diversificazione sufficiente a livello di investimenti per poter costruire il portafoglio. E pensateci, da un lato molti settori sostanzialmente sono stati nati così come servizi su abbonamento, pensate ai media, le telecomunicazioni, i servizi legati a questi e chiaramente più recentemente i videogame, poi lo streaming della musica, contenuti di video eccetera, ma nello spazio B2B anche lì prevediamo che ci sarà una crescita fortissima appunto con applicativi di software che hanno un bellissimo lineamento per quanto riguarda la economia subscription. E tutto questo porta a una diversificazione di portafoglio di circa 250 nomi, aziende spalmati veramente tra offline e online, questi due universi, ma anche allocando sia al segmento B2C e anche ai segmenti B2B. La nostra stima è che il nostro universo di investimento stia facendo crescere i propri ricavi a circa del 13% all'anno nel lungo periodo, quindi è chiaro che una caratteristica centrale è la crescita del flusso dei ricavi ma anche la resilienza, un abbonamento che dà appunto dei servizi core centrali per prodotti ai consumatori e alle aziende e quindi in ultima istanza, secondo noi, il risultato è un portafoglio di convenzione di 40-60 posizioni che veramente abbracciano a mani pieni questo concetto, l'obiettivo è quello di incapsulare e catturare la crescita associata con l'economia subscription. Sam, perché però ne avete fatto un tema di investimento? Cioè quali sono i caratteri che lo rendono interessante anche dal punto di vista finanziario? What is the investment case around this subscription economy from a financial perspective? Sì Barbara, abbiamo cerato velocemente alcuni driver core centrali, ma da un lato alcuni settori chiaramente sono stati proprio creati sui modelli di abbonamento, di subscription, altri invece si sono convertiti a questo nuovo modello, quindi noi vediamo alcune motivazioni diverse per cui appunto la subscription ha un potere attrattivo così forte, sottolineiamone solo alcuni dei driver che sono centrali, sicuramente il primo è quello da digitalizzazione che ha reso l'abbonamento molto più facile, la subscription, pensate all'accesso a internet, al sito di un'azienda dove possiamo compilare praticamente un modulo in pochi minuti per l'abbonamento e pensate anche appunto come le aziende stanno usando questi dati, li usano per raccogliere sempre più dati per riuscire poi a operare e dare dei servizi chiaramente che sono più potenziati a livello anche di personalizzazione dei servizi, la digitalizzazione quindi senz'altro per noi abilita veramente un più facile accesso ma anche una fortissima spinta di personalizzazione da parte del vendor e le subscription, gli abbonamenti sono semplicemente un modo più pratico per consumare. Pensateci, sono un consumatore, tipicamente abbiamo accesso per esempio a più contenuti senza dover sempre pagare ogni utilizzo discreto di questo contenuto e l'accesso ai servizi, ai contenuti è sulla base di quando e come vogliamo. L'ultima cosa che è molto importante da non dimenticare è che provate a pensarci un attimo al cloud computing, è un modo più sostenibile come opzione per le soluzioni di tecnologia aziendale, chiaramente avere una potenza di calcolo centralizzato e un data storage condiviso da diverse aziende chiaramente rende questo un approccio molto più sostenibile rispetto ad avere magari per ciascuna azienda avere il proprio data center singolo e la cosa più importante è che pensate appunto al subscription economy, è un pilastro dell'economia circolare. Tutto quello che vende un'azienda via abbonamento per esempio ha un circolo, chiaramente i costi di riparazione, di sostituzione sono in capo al vendor, quindi non c'è un vero e proprio incentivo di costruire una obsolescenza programmata, quindi dal punto di vista del vendor è un vero incentivo a costruire quello che è un prodotto più durevole e sostenibile. Grazie, grazie Sam. Abbiamo toccato il concetto di personalizzazione, abbiamo toccato il concetto di servizio, abbiamo toccato il concetto di fiducia. La fiducia le aziende chiaramente la devono acquistare, conquistare ma la devono anche mantenere, quindi diciamo che il concetto di fiducia si lega qui anche al concetto di fedeltà. Luca mi rivolgo a te, trovi un nesso tra quello che potrebbe essere la subscription economy e la subscription quindi e la loyalty? Allora Barbara, assolutamente sì, io ritengo che la subscription sia la nuova loyalty in termini di il miglior posto dove far stare i propri minori clienti. Quindi è un pillar, quindi un pilastro insieme al punto fisico, insieme all'e-commerce, qualsiasi azienda deve avere anche un'offerta subscription perché pensiamo un po' ai cataloghi appunti delle vecchie carte di credito o delle linee aeree. Per i migliori clienti c'erano dei premi belli, nessuno pensava di dare ai migliori clienti 10 caricabatterie, c'era magari il televisore o il bel telefono. Ecco, è la stessa cosa. La subscription è il posto dove i migliori clienti, i clienti altospendenti che non sempre sono anche quelli più ricchi, ma sono quelli che credono di più nella marca, vogliono stare perché vogliono avere il miglior servizio, il miglior convenience, senza problemi, quindi peace of mind. E lo vediamo, lo capiamo anche da un paper di McKinsey di ottobre 2020 dove dice che il 59% dei clienti aderenti a un programma di loyalty a pagamento e di fatto una membership, una subscription, compra di più rispetto al 30% dei clienti dei programmi gratis, come ad esempio Fidati S Lunga. E di questo 59%, il 63% ha una frequenza d'acquisto maggiore e il 42% ha una spesa media molto molto più elevata. quindi ritengo veramente che per tutte le aziende sia salutare, creare un corso di subscription dove poter fare entrare i migliori clienti che si autosegmentano, quindi in base alle proprie aspettative e aspirazioni hanno anche questa possibilità di scelta. Grazie, grazie Luca. Torno un attimo a Sam perché questo concetto di fedeltà e di continuità nella relazione lato aziende e lato investitori si traduce anche e significa maggiore visibilità per quanto riguarda i ricavi e ricavi ricorrenti, quindi si riscontrano tra l'altro negli ultimi sette anni una crescita dei ricavi da subscription di fatto cinque volte più veloce rispetto alle aziende dello Standard & Poor's, a quello che possono in termini di crescita garantire e assicurare le aziende dello Standard & Poor's. Quindi come modello questo basato sull'abbonamento impatta sicuramente sul valore delle aziende e inevitabilmente anche sui prezzi di mercato, quindi da Sam vorrei capire proprio questo, how can a subscription based model impact a company's value and ultimately its share price? Sì, direi che questa è una domanda veramente fondamentale. Luca ne ha fatto brevemente accenno, chiaramente si crea lealtà, fedeltà, prossimità con questo cliente e questo è centrale. Pensate alla subscription, il vendor ha l'opportunità di interagire costantemente con il suo cliente per tarare le sue preferenze, cercare di migliorare il servizio, aggiungendo sicuramente ulteriori servizi ausiliari al cui ancora può abbonarsi, quindi è un feedback, è un loop molto positivo perché i servizi migliorano e così non fai che rafforzare questo senso di fedeltà, sostanzialmente questo feedback, questo loop ha poi un impatto sui ricavi, sui dividendi dell'azienda. Quindi se ci pensate, pensate quando un cliente per esempio rinnova il proprio abbonamento, sostanzialmente magari, non so, pensa che sia una situazione win-win, 50-50, alta personalizzazione, alti benefici, certamente c'è una grossa probabilità che questo cliente possa continuare a abbonarsi, a fare la subscription anche in futuro e questo flusso di ricavi e la prevedibilità, la frattabilità di questi ricavi è una cosa che viene valutata sempre di più dal mercato e anche riconosciuta dal mercato. Per esempio un'azienda che ha, non so, 100 milioni di dollari di ricavi, di cui sa che il 75% sono clienti che poi rinnoverà il proprio abbonamento in futuro, sostanzialmente ha una visibilità su 75 milioni di dollari ancora netti. Possono allocare il capitale in maniera più efficiente, spendendolo magari nella ricerca e nello sviluppo, nel marketing. Quindi questo è per dire che con maggior tranquillità, chiaramente nella previsione dei ricavi, è ovvio che le spese conseguentemente possono essere preventivate con maggiore precisione. Questo ha un impatto sul corso azionario dell'azienda in maniera molto positiva e tra l'altro rassicura il mercato. Grazie, thanks Sam. For you another question. Per te un'altra domanda però, perché questo mi ha ricondotto anche a pensare un'altra cosa. Per quanto riguarda invece la scelta, perché ovviamente abbiamo visto che molte aziende stanno adottando questo tipo di modello, però quello che voi utilizzate in termini di criterio prospettico per la scelta del valore appunto di un titolo, di un'azienda piuttosto che di un'altra, quali sono i criteri che voi utilizzate? Perché questo credo che sia assolutamente importante. Sì, certo. Anche questo è molto importante tra l'altro come criterio perché chiaramente, come sappiamo, tutte le aziende non sono uguali e quindi anche i servizi di abbonamento chiaramente sono non uguali. e chiaramente per la selezione dei titoli noi guardiamo l'azienda che deve avere un'esposizione concreta a quel tema. Per esempio, derivare una quota molto importante dei propri ricavi attraverso le subscription, gli abbonamenti, o avere una qualità di leadership. Un'azienda quindi magari che ha meno ricavi utili attraverso gli abbonamenti, ma che ha comunque a fronte di questo una crescita molto forte in un mercato dato sulle sottoscrizioni. Un perfetto esempio può essere quello della Disney. L'azienda non aveva, diciamo, dei ricavi legati agli abbonamenti nel 2019 concreti, tanto per darvi un'idea rappresentavano soltanto il 5% del fatturato. Nel 2019 il lancio di Disney Plus chiaramente è stato uno dei segmenti in più rapida crescita proprio nel contributo dei ricavi dell'azienda. Tra l'altro nel 2020 i subscription rappresentavano già il 20-24% dei ricavi totali, con più di 90 milioni di abbonati. Questa è una storia veramente di grande successo. Ma a parte questo, dopodiché abbiamo condotto un'analisi fondamentale approfondita, che è quello che facciamo sempre. E chiaramente per poter fare la nostra valutazione dell'azienda, che sia a livello di team, di direzione, di gestione, la qualità del business, i rischi di mercato, di trading, ma anche quelle che sono le considerazioni extra finanziarie che secondo noi possono avere un risvolto nel valore lungo termine dell'azionista. Usiamo appunto un target di valutazione dell'upside per poter dettare la dimensione che vogliamo avere nella posizione in portafoglio sulla base di questa analisi. Grazie. Ora vorrei un attimino ripassare la parola a Luca. E qui mi ricollego a quanto ha detto il collega da Parigi, ovvero che i settori ormai sono tutti attraversati da questo trend, se vogliamo. Quindi non soltanto il settore tecnologico, che potrebbe essere quello che come assonanza al digitale ci riconduce rapidamente a un'idea di abbonamento. Non so che non ti piace questa parola, però ha l'idea di subscription. Quindi dal tuo osservatorio, che è un osservatorio di società internazionale, ma anche quindi basata qui in Italia, che aiuta a far evolvere i modelli appunto aziendali, di business aziendale, quali tipi di settori hai potuto riscontrare essere più interessati a questo passaggio? Ma allora Barbara, in realtà tutti i settori stanno lanciando dei servizi a subscription. Il punto focale è questo. Siamo passati da un'economia di prodotto, quindi il vero manufacturing, a un'economia di servizio. E le aziende hanno capito che per vendere servizi il modello transazionale, quindi compro, pago e ci rivediamo la prossima volta quando il cliente si sveglia o ha finito di consumare il prodotto, il prodotto è vecchio, obsoleto, non funziona, non va bene per vendere servizi. Quindi stanno passando a modelli di pricing che sono appunto a recurring fee mensile o a usage, quindi paper use. Abbiamo degli esempi appunto come Candy Ayer che ha lanciato la prima paper wash, c'è proprio un programma, si chiama WashPass, abbiamo un broker assicurativo che è AON, che si è inventato una piattaforma di mobility che si chiama FLEE, che se vogliamo va anche incontro a un discorso di sostenibilità, di cui parlavamo prima. Quindi anche il manufacturer, il produttore di lavatrici e il broker assicurativo che mai non si sarebbe immaginato potesse lanciare dei servizi di mobilità, si sono proposti per dare dei servizi completi ai propri clienti. Questo anche perché, diciamo, c'è una parte sicuramente etica, ma c'è anche una parte economica. Ricollegandosi a quello che dice Sam su Disney Plus, Allora, i ricavi Disney Plus quest'anno sono circa 4.8 miliardi di dollari e Statista valuta la piattaforma Disney Plus 51 miliardi di dollari, quindi c'è un moltiplicatore per 10 del fatturato dell'azienda come valore appunto di mercato. Ecco, questo non è sempre così, perché normalmente un'azienda viene valutata, quando va bene, 4-5 volte l'EBIT, non 10 volte l'EBIT. Anche per questo le aziende si stanno muovendo verso la subscription. Mi fa venire in mente in realtà anche un altro settore che potrebbe essere attraversato da questo tipo di cambiamento di modello, il settore automobilistico. Puoi farci magari qualche esempio? Assolutamente sì. Allora, in Italia abbiamo degli esempi di subscription, dove le case automobilistiche lanciano il car as a service, quindi la macchina quando mi serve, dove mi serve, per quanto tempo mi serve. Abbiamo appunto esempio di Enjoy, ma anche di CarCloud, di Lysys, che addirittura usa Amazon come appunto canale distributivo, come touch point. Però abbiamo anche esempi di case automobilistiche che vendono a subscription i servizi connessi, quindi posso acquistare un'assicurazione, posso acquistare un servizio anti-theft a tempo, posso addirittura abilitare dei servizi, i famosi optional che una volta venivano comprati quando si comprava la macchina, c'è l'Audi e Tronic che addirittura abilita a subscription per il periodo che ti serve, quindi se devi fare un lungo viaggio, i fanali all'Oxenon per i viaggi a lunga percorrenza. Quindi il settore auto sta veramente utilizzando questo nuovo modello di business perché di auto se ne vendono meno, anche perché diciamo proprio un report maiesco su rethinking new auto insurance proprio della fine del 2020 ci racconta come solo il 60% dei millennial e il 45% della generazione X ritengano che sicuramente l'auto sia necessaria ma non sia necessario possederla. La stessa domanda fatta ai baby boomer che sono quelli come me che hanno 50-60 anni dice che il 72% dei baby boomer richiede che l'auto debba essere posseduta. Quindi stiamo andando non solo per il Covid ma proprio per un ricambio generazionale verso una pratica di pubblico che ritiene che l'auto sia utile ma non debba essere acquistata. Quindi comunque bisogna dare una risposta a questo nuovo target di clienti. Assolutamente. La demografia insieme alla tecnologia e al trend, alla sensibilità verso la sostenibilità sono sicuramente dei driver molto molto forti per l'affermazione sempre più pervasiva di questo tipo di economia. Sam, passo un attimo a te ricollegandomi un po' a quello che ha detto Luca ovvero i settori possono essere potenzialmente infiniti quelli in cui si può applicare questo modello di business. Attenzione, non è un canale di vendita come ho capito dalle diverse discussioni che abbiamo avuto questa sera ma è effettivamente un vero e proprio modello di business. quindi digitale, non digitale offline, online diretto a individui piuttosto che ad aziende insomma il campo di applicazione potrebbe essere veramente quasi infinito. Dal vostro punto di vista quale potrebbe essere la prossima frontiera di sviluppo per questo tipo di modello? Sam, what is in your opinion the next frontier for this development? Io direi che la frontiera si muove sempre ma senz'altro abbiamo visto moltissimi cambiamenti di rompente e disruption attraverso tantissimi settori come diceva Luca grazie proprio all'ascesa tecnologica alla digitalizzazione spinta dell'economia ma forse per darvi un paio di esempi noi sentiamo veramente che il settore del fitness è pronto per cambiare recenti eventi hanno soltanto accelerato questa disruption chiaramente con Peloton per esempio il provider di biciclette connesse che ha accelerato sicuramente anche la tendenza del fitness connesso ma ci sono sempre più nomi ogni giorno che si affacciano sul mercato che sia Amazon o Apple stanno cercando di catturare veramente una quota di mercato nel fitness 2.0 questo è molto visibile pensateci con un pochino di distanza prospettica la Yacht, Internet of Things e tutti i device connessi senz'altro è uno spazio molto affascinante vediamo l'emergenza di aziende come Signify pensate che operano nel settore chiaramente dell'illuminazione dei servizi legati all'illuminazione smart, intelligente nell'aeroportuale eccetera che possono utilizzare sicuramente in maniera più efficiente le infrastrutture di illuminazione attraverso dei device connessi e poi magari qualcosa di meno visibile dove, non so, dal punto di vista finanziario vediamo per esempio che anche il settore finanziario sta un po' allontanandosi dai modelli transazionali quindi non è soltanto un'attenzione per i media pensate alle borse però l'LS, il Nasdaq di questo mondo queste sono delle società, delle aziende che hanno veramente creato dei tesori di dati e tecnologie nel tempo e adesso stanno allontanandosi da un modello puramente transazionale che si affida solo sui volumi di trading per poter dare una parte dei loro servizi anzi molti o che siano dati e tecnologie attraverso un modello di abbonamento di subscription c'è una tendenza affascinante anche questa per tutte le aziende che stanno muovendosi veramente verso questo modello ricorrente di ricardo Grazie, thanks Sam Ci stiamo avviando alla conclusione Sam mi rivolgo ancora a te perché in effetti nel primo anniversario del lancio della strategia che avete lanciato unica nel suo genere in quanto siete effettivamente pionieri avete visto e vissuto anche la pandemia e abbiamo effettivamente riscontrato e manifestato come abbiate superato questa pandemia con una certa resilienza mettendo anche a segno dei rendimenti prossimi al 50% in dollari con ovviamente tutto il potenziale di diversificazione all'interno di un portafoglio Sam se ci aiuti un attimo a sintetizzare quali potrebbero essere i fattori e anche le cifre da tenere in mente da un punto di vista diciamo di un investitore in ragione prospettica per inserire diciamo questo tipo di strategia all'interno del portafoglio What are the facts and the figures that you would ask to remind? Sì, molto semplicemente mettiamo delle cifre diciamo a quello che abbiamo discusso oggi senz'altro posso dire che per quanto riguarda la spesa del consumatore gli abbonamenti rappresentano soltanto pensate un 5-6% in media che sia in Europa o negli Stati Uniti c'è ancora quindi molto spazio per crescere per le subscriptions e rappresentare sempre di più la spesa del consumatore poi il secondo punto non meno importante è questo come dicevamo appunto gli abbonati sono fedeli quindi sostanzialmente per esempio se pensate a chi è stato colpito molto dalla pandemia per esempio il settore immobiliare è uno di questi chiaramente le aziende come non so Rightmove nello UK oppure in Germania Scout24 che hanno dei portali appunto e hanno dei servizi di subscription non hanno avuto nessuna perdita di clienti quindi si tratta di modelli di business molto resilienti anche in momenti di difficoltà e chiaramente Barbara questo è già emerso un paio di volte il ruolo da non dimenticare appunto della sostenibilità anche qui è un ruolo che deve essere molto promosso all'interno di questo modello e questo è fondamentale perché sappiamo tutti perfettamente che diciamo che la media diciamo della migrazione da enterprise a cloud può generare un 65% di riduzione nei consumi energetici e 84% invece delle emissioni di CO2 quindi diciamo la sottoscrizione a servizi di dati è una cosa che è ecologica ma anche promuove un modello sostenibile durevole e quindi non c'è un incentivo per un produttore eccetera costruire chiaramente sulla obsolescenza calcolato e programmata il modello quindi è molto sostenibile in sintesi senza altro possiamo attenderci comunque una buona penetrazione del modello per il futuro sana direi e questo aprirà sicuramente nuovi servizi nuovi settori nuovi prodotti attraverso il modello di subscription per come la vedo io se pensate appunto al razionale di investimento questo apre veramente delle opportunità estremamente diversificate perché non si è più limitati ad un segmento specifico a un settore unico dell'ecorobia bensì si può sostanzialmente avere veramente opportunità molto diversificate che sono alla base chiaramente spingono la crescita del modello di subscription nell'economia grazie grazie Sam diciamo un buon modo per diversificare un portafoglio azionario globale attraverso un investimento che è più dinamico proprio perché punta su modelli emergenti più sostenibili e più resilienti allora direi che ci avviamo verso la conclusione e saluto i miei ospiti buonasera Luca e buonasera Sam buonasera grazie thank you so much buonasera e saluto anche gli aspettatori da casa lasciando comunque a loro anche la possibilità di interagire con noi se volete approfondire come sempre rimaniamo a vostra disposizione buona serata e buon lavoro